Con una delibera di giunta a Fiumicino è stato dato il via alla destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative pertinenti alle concessioni di maniali marittime. Gli operatori balneari potranno aprire le strutture al pubblico tutto l'anno, oltre che nella stagione estiva. Lo ha annunciato qualche giorno fa il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca, che ha invitato gli interessati a fare subito richiesta, secondo le modalità indicate sul sito del comune. A sostegno di questa opportunità si è schierata l'Associazione Insieme per il Mare, che dal 2006 opera nell'ambito della promozione sociale, dello sviluppo e della tutela dell'ambiente. Oltre a vantare una consolidata esperienza nella didattica ambientale, fa sapere il responsabile scientifico Riccardo Di Giuseppe, con il progetto Il Mare d'Inverno la nostra realtà si pone come interlocutore e partner privilegiato per nuove iniziative presso gli stabilimenti. I membri dell'organizzazione pertanto suggeriscono agli imprenditori balneari di sottoscrivere il modulo di adesione alla campagna per predisporre uno specifico programma di eventi formativi e didattici.